ciao a tutti e benvenuti o bentornati sul canale stilograficamente il canale dove la mente si rivolge al bello oggi parliamo di questa penna qui l'avete vista nello scorsa settimana nel suo video di unboxing è l'happy nider avatar traveler twink tank touchdown filler per cui un nome lunghissimo e diciamo lungamente parlerò di questa penna in questo video non la sottoporremo a una prova di scrittura perché perché è necessario fare un video a parte non perdete neanche questo perché in questo video getteremo le basi del motivo per cui ho dovuto separare i video ho dovuto separare quello che solitamente condenso in una penna dal mio punto di vista è una penna piuttosto insolita per cui merita come qualsiasi cosa di innovativo insolito secondo me merita una particolare attenzione in più non ho avuto nessun incoraggiamento da parte di chi me l'ha prestata che itapec.com quindi vi ringrazio per avermi prestato questo esemplare ai fini della recensione ho chiesto il permesso di ritenerla un po di più in affido perché comunque insomma quando l'ho riempita avete visto che la penna era riempita fin qui fondamentalmente con un colpo solo era arrivato fin qui e adesso è oltre la metà della strada e da più di una settimana e mezzo che l'ho riempita sottoponendola a varie prove e oggi vediamo le parti che compongono questa questa penna allora innanzitutto parliamo del materiale con cui è realizzata questa demonstrator perché è una clear demonstrator quindi non non c'è colore quello che vedete qui è l'inchiostro altrimenti per chi avesse visto il video di unboxing sa benissimo che è tutta trasparente fondamentalmente clear appunto è trasparente e la resina in questione viene definita ultra resin per cui è una resina che ha diciamo il l'obiettivo di essere virtualmente indistruttibile è un composto di madre perla e resina ora la mia personale opinione la conoscete per tutto ciò che ha impatto sulle forme di vita senzienti tendenzialmente preferisco evitare di nuocere ad animali che siano essi con occhi o senza insomma comunque mitili e compagnia cantando però facendo un passo indietro da questa posizione e mantenendo un'oggettività nell'esame della diciamo della penna in questione dello strumento in questione non posso evitare di analizzarla con un occhio di riguardo perché il fautore di questa penna è dante del vecchio dante del vecchio è un personaggio assai famoso per la comunità stilografica perché è colui che ha disegnato le penne di maggior successo in casa visconti per poi passare in pinaider comunque è sempre stato un innovatore anche da punto di vista dei materiali per cui non sorprende questa ultra resin non testerò la resistenza della resin anche se so che molti di voi lo vorrebbero vorrebbero vedermi sbattere fortemente questo questo strumento di scrittura ma allora la penna è in prestito e anche se fosse mia non me la sento sinceramente di sottoporla a prove d'urto nelle quali comunque molti l'hanno l'hanno sottoposta insomma date del vecchio in primi se ci sono vari video vi suggerisco di andarli a vedere bando alle ciance torniamo a parlare delle parti che compongono questa penna quindi ho già detto che è una versione clear si vede che c'è un controcappuccio interno che si mantiene pulito nella prima settimana ho notato che si formava una condensa non so forse perché il pennino era leggermente bagnato dopo averlo intinto nel nell'inchiostro per pescarlo e riempire la penna non ne ho idea comunque diciamo una parte acquea ha formato delle piccole bollicine non ho avuto più questo problema la condensa è durata solo i primi giorni di utilizzo non ho mai lavato la penna per cui anche quando ci sarà la prova di scrittura darà fondamentalmente tutta se stessa così come è arrivata nelle mie mani allora controcappuccio trasparente che si è mantenuto grazie anche all'isolamento qui c'è una shut off valve quindi una valvola di chiusura sostanzialmente perché questa essenzialmente sarebbe una siringa rovesciata ma non è solo una siringa rovesciata per cui dal mio punto di vista è una variante interessante comunque qui c'è una valvola di chiusura che quindi impedisce l'eccessivo fuoriuscire di inchiostro soprattutto in frangenti di varianza di pressione per cui se fate un viaggio in aereo è per questo che si chiama traveller fondamentalmente perché ha questo sistema che la rende ancor più pratica migliorato perché non è una siringa semplice come stavo dicendo già la siringa rovesciata semplice è comunque solitamente quando c'è shut off valve una penna consigliata per i viaggi in aereo in questo caso un po di più dal mio punto di vista comunque cosa cosa completa diciamo l'approccio ingegneristico della della demonstrator allora come potete vedere la molla si vede benissimo nella trazione della clip è molto bello che si possa vedere in maniera così limpida così trasparente la clip è una forma stilizzata di piuma qui mi sentirei di dare il suggerimento di fare una clip un pelino più allargata perché è bella è molto sinuosa si infila facilmente sui vestiti non rovina ecco forse è un po puntuta per cui si potrebbe anche incagliare quindi forse allargando stondeggiando un po non lo so io preferisco clip un po più larghe considerate le proporzioni rispetto al cappuccio ecco la farei in una prossima edizione ecco fosse fatta per me la vorrei un po più larga ecco giusto per dire però è molto bello il fatto che ricalchi il disegno di una piuma il cappuccio e non a pressione ma a magnete per cui si estrae come un cappuccio a pressione ma quello che sigilla la chiusura è proprio il magnete che chiude in maniera piuttosto sicura la veretta ritrae il profilo del dei grattacieli di firenze con la scritta pinaider made in italy quindi il cosiddetto skyline cioè il profilo sullo sul cielo di tutta c'è la c'è la cupola del duomo insomma del paesaggio storico della firenze centrale del centro insomma poi il pennino dal mio punto di vista merita un'inquadratura sicuramente ravvicinata e sicuramente capovolta perché c'è la scritta ai lati delle delle spalle pinaider quindi corre per i lati c'è la gradazione del pennino quindi in questo caso m comodamente indicata dopodiché per quanto concerne il fusto della pena sezione è in metallo e torneremo a parlare di questo aspetto quando poi avremo fatto prova di scrittura e aspetti positivi meno positivi di questa penna completando l'esame delle parti abbiamo un fusto che tende a rimpicciolirsi andando verso il fondello per cui sostanzialmente è una è un fondello che ha su di sé anche l'illustrazione di un lucchetto sbloccato bloccato per cui in questo senso si sblocca in questo senso si blocca si blocca cosa la flusso d'inchiostro nella sezione o meglio prima che della sezione la seconda camera perché appunto è twin tank per cui a me fa pensare tendenzialmente a due tani che fondamentalmente la parte in più capiente dell'inchiostro è quella la seconda camera di appoggio quasi una camera di depressurizzazione no comunque dentro credo che questa asticella sia fatta in in un metallo molto duraturo dovrebbe essere titanio e come parti della penna direi che abbiamo esaurito il il nostro viaggio credo credo che mi divertirò parecchio nella prova di scrittura sarà una prova di scrittura diversa dal solito e per questo che la faccio in un video a parte vi faccio notare che una cosa che vi devo sicuramente far notare che quando si sblocca viene su il fondello in una maniera molto molto automatica ok è piacevole la chiusura è davvero comoda e l'alimentatore non l'ho detto prima è un alimentatore in plastica mi sembra corretto farvi uno zoom anche di quello e direi che per il momento abbiamo osservato abbiamo studiato questa penna e abbiamo cominciato a capire ed apprezzarne un valore diciamo quasi ingegneristico ancora non abbiamo centrato bene l'obiettivo ma lo centreremo con la prova di scrittura dal mio punto di vista non voglio anticiparvi nulla e per quanto riguarda l'esame delle parti beh è specchiata la superficie del fondello la sommità sembra quasi disegnare una croce perché qui c'è la vite la vite che attraversa insomma il cappuccio e tiene anche ferma secondo me la molla qualcosa del genere perché poi io non l'ho smontata in ogni sua parte un'altra cosa carina dal punto di vista ingegneristico è che questa penna si smonta in ogni sua parte nulla è incollato per cui è anche un metodo di assemblaggio che mi trova particolarmente favolevole insomma è duraturo nel tempo è pienamente manutellibile chiaramente ci vuole una certa abilità essendo l'esemplare in prestito non penso che mi metterò a smontarlo tutto però merita anche questo aspetto la vostra la vostra attenzione bene direi che per questa prima sessione di esame della penna è tutto vi ringrazio per aver visto il video fin qui vi do appuntamento alla prova di scrittura che non sarà una sola sarà una prova un po più complicata rispetto al solito è un video un po più difficile da realizzare per cui mi prenderò il mio tempo per farlo grazie a tutti voi grazie amici di itape che al prossimo video stilograficamente parlando ciao a tutti